Aspetta, ecco, ci siete tutti? Sì, siamo! Allora c'è un carabiniere, no? Fa su una distesa di ghiaccio. Allora fai il buco, così, no? Butta la canna. Si mette lì a aspettare per pescare e sente una voce. Qui non ci sono pesci da pescare. Porca miseria, dice. Allora dice, no, io aspetto. Oh, qui non ci sono pesci da pescare. Porca miseria. Oh, qui non ci sono. Ma chi tu sei? Sono il direttore di pattinaggio su ghiaccio. Ciao da Sant'Angelo!